Sì, la Polonia! 022, il Patelli 11, 49 16, Esposito 1,21, Vita 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 1,21, Pisa 1,19 Rubi Napoli! Con il numero 1 Gennaro Con il numero 13 Fabiano Numero 25 Edelson Con il numero 6 Salvatore con il numero 18 Camilo con il numero 80 Manuel con il numero 21 Hassan con il numero 3 Luigi con il numero 77 Yose con il numero 17 Baret con il numero 22 Ezekiel a disposizione di mister Baret Mazzardi con il numero 83 Matteo Gianello con il numero 88 Paolo Cangadano il numero 14 Udo Cangadano il numero 11 Christian Maccio